Buonasera a tutti, siamo con Stefano Manfrè, proprietario dell'hotel Picobello a Iesolo, Pineta. Buonasera Stefano, è iniziata la stagione, quali sono le ultime news? Siamo davvero molto contenti perché prendiamo tantissime prenotazioni ogni giorno, parliamo circa una trentina di prenotazioni per l'estate, c'è tanto lavoro in questo momento perché comunque la programmazione dell'inverno ormai non c'è stata più, i clienti non prenotavano durante l'inverno e quindi si stanno versando tutti negli ultimi giorni, negli ultimi 15 giorni per poter prenotare tutta l'estate. Ci auguriamo che le cose continuino in questo modo e soprattutto ci auguriamo che la stagione e l'estate finisca più avanti possibile, speriamo anche in un buon settembre che per fortuna abbiamo già molti clienti che hanno prenotato per settembre, per il fine settembre, c'è ancora la Germania che ci traina e noi abbiamo bisogno anche di tutta Europa per poter lavorare qui a Iesolo e di tutti i clienti stranieri. Sì, abbiamo visto che spesso sui social ci sono delle grosse novità come la ristrutturazione di alcune camere. Sì, noi abbiamo acquistato questo albergo sei anni fa ed ogni anno investiamo dei soldini per creare qualcosa sempre di nuovo, qualcosa all'avanguardia e stiamo attenti alle esigenze del mercato. Quest'anno abbiamo fatto, abbiamo creato 12 camere, le abbiamo chiamate Pico Suite, sono molto belle, hanno uno stile industriale elegante con una carta da apparati dietro la testiera dal letto con una luce soffusa a led che crea un'atmosfera molto rilassante, coccola, confortevole e tutte le persone che l'hanno acquistata fino a questo momento non hanno fatto altro che dire che sono bellissime. Questo ci rende orgogliosi della scelta che abbiamo fatto per queste nuove camere insomma. Ecco, perfetto. Riguardo allo scorso anno, cos'è cambiato a Iesolo per quanto riguarda la stagione? Facciamo la tendenza, ci sono manifestazioni, eventi, programmati? Quest'anno ci sono sicuramente più manifestazioni dell'anno scorso che erano restate ferme per il motivo che tutti conosciamo. Fatalità domani sera nel weekend qui che stiamo passando arriverà la Night Marathon, molta gente ha prenotato anche per questo evento e gli eventi aiutano la località sia nel marketing ma anche nel far venire appunto le persone a soggiornare durante questi eventi. Benissimo, allora vogliamo dare un input ai turisti per venire qui a Iesolo e soprattutto all'hotel Picobello? Venite, 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 venite soprattutto qui da me perché al Picobello si sta bene, c'è un'atmosfera rilassante, siamo nella pineta di Iesolo, nel polmone verde di Iesolo con una temperatura molto più bassa, più mite e si sta veramente bene. Venite da me che siamo puliti, bravi, facciamo da mangiare molto bene e vi accogliamo sempre col sorriso. Perfetto, grazie allora Stefano Manfrè, auguriamo una splendida estate. Grazie a voi, speriamo, grazie. Grazie a voi, speriamo, grazie a voi.